Dicevo senza sosta Quindi Sott'acqua Minchia Già youtube sarà tartassato in questi giorni Altri due miei video Cazzoni al massimo My god Vai 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 bella Spadonsky Bello Spadonsky Bello Oddio Scrapparapaparaparapapaparapapapapapapapapapapapapa Sono scala montagna Sei tua mamma scala montagna La mamma di storco Tua mamma Com'è che t'ho chiamato? Non si vede Vabbè tua mamma Roctnagor Scala le montagne E mi fa anche le polpette a pranzo Hai capito? Hai capito? E' orca Orcaccio che non sei altro Non risponde Sarà proprio un pirla Intra ragazzi Il mio orco quando mi risponde Quando una testa di cazzo Non c'è niente da fare Colpo critico sul cervo E io che me ne faccio di ste robe Vabbè chi appiamo il vaffanculo Vabbè devo andare più vicino Sennò rischio di non beccarli mai Io può ragazzi Guardate quanto mi consumo Un solo colpo Una pulce fa più male Allora io sarei peggio di una pulce Allora se io sono peggio di una pulce Perché tu sei morta sepolta Appena ti becco Se non fai Michael Jackson Ma chi è adesso che Mi spara con altezza inaudita Da altezza inaudita Ho già finito la carica Mio dio Ma chi cazzo è stata una freccia Che andava per i cazzi suoi Bandits E' morto Ragazzi io mi sento fottutamente Però con quest'arco Voi venitemi addosso Tranquilli Poi se io vi ammazzo in tre colpi Tranquilli Anche in quel caso lì Non fatevi prendere dal panico Allora a proposito Poi di altri giochi Da registrare Non so se ne farò Battlefield Battlefield 3 Se non mi lagra Si Se no No Merda Invece Skyrim ne farò diversi Dai Cercherò di fare La storia principale Proprio di tutte le missioni principali E anche qualcos'altro Insomma Non di continuo Nel senso che Gioco continuamente Registrando Non mi va Non sono una persona Che riuscirebbe a farlo Però posso tranquillamente Fare episodi Vari Nel senso Molto 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 Tranquillamente E io Prendo Faccio una bella missione Tutti insieme a voi Una missione Magari un po' importante Oppure Da ricercare Con particolare Attenzione E niente La faccio registrando Se ne saranno diversi Comunque Di miei episodi Di Skyrim Tanto Franz Ha i suoi giochi Se ne ha comprati tantissimi E farà dei video Su diversi Di quei giochi Quindi mi sembra Mi sembra anche giusto Lasciare Lo spazio Del suo canale Cioè È condiviso Sì però L'ha creato lui L'email è sua Quindi principalmente Diciamo un 60-40 Se non un 70-30 A suo favore Ovviamente Mi sembra anche giusto Io non contesto Assolutamente niente Non mi viene nemmeno In mente di contestare Perché Cioè Anzi È stato molto gentile A prestarmi Il suo canale Insomma C'è ad unire Me e lui Non prendetela male Questa afferma Non prendetela male Adesso Forse Forse Non penso Arriverà Il gameplay Di Serious Sam The Second Encounter Dico Non penso Perché non penso Che faremo un gameplay Di quello Di quel gioco lì Anche perché lui Adesso come ho detto Se ne è presi tanti altri Aio Menchia Graba un po' poi Fresh the fair Akes of war Akes No War X Si direbbe Adesso in inglese Aspetta Aspettate War X No Battle X Iron Battle X Battle Axe Che non so bene Come si pronuncia Però Battle X Penso E X Sono un cazzo Perché mi metto A fare le traduzioni In inglese Anche il perale Bruciante Adesso Spiegatemi Che cazzo è Che cazzo è che Sono tre robe Col fuoco Alcolini negati Che c'ha il fuoco Questo che c'ha il fuoco Ma che cazzo Dico io Non uso questo Perché Poi è tutto Lo stesso incantamento E 10 punti danno Scrabba buiosamente Tutti i 10 punti danno C'è ragazzi Sono proprio Sono un pro Della madonna Ma che cazzo è Ma che è Il nemico Il nemico Il do cazzo sta Salviamo Perché io Già so Geronimo Era abbastanza profonda Credevo che non fosse Profonda per niente Aspetta ma Chi è Qual è Chi è il nemico Cos'è il nemico Perché Ma vaffanculo Ma muori Non mica muori Sto sto Tua mamba E' una troia Pesce macellaio Dove cazzo sta Era minchione Schvame Di pesce macellaio Schvame Minchia Quindi abbiamo fatto Anche la seconda Delle tre missioni previste Sta a vedere Che alla fine Faccio tre video Senza mi sa No Penso che la terza Non la faccio Qual è la terza Io sto per Trovo la fonte di potere In questo luogo No Questa qui Allora non la faccio Trovo la fonte di potere In questo luogo Per il semplice Merda Mi è scivolato Fortuna che ho salvato Fortuna Mio di ve l'ho detto Che io prima o poi Facevo un volo Ve l'ho detto Ecco a proposito di Franz I'm Franz Sta giocando a Call of Duty Modern Warfare 3 Yes yes Yeah man Nice game Nice game No sinceramente Tutti i code Da Da Black Ops Black Ops incluso Mi fanno cagare Quindi due code Mi fanno veramente cagare Pena Mi fanno pene Mi fanno due code Mi fanno pene Perché Perché non mi piacciono Proprio per niente Sono passato a Battlefield E sinceramente Mi trovo molto meglio Ma adesso ovviamente Non c'entra una Minchia di niente Scrabbo bovigliosamente Bastardo Questo cazzo di pesce macellaio Io ho detto Che c'è la mamma troia Però O comunque Due volte La stessa scena Identica Nello stesso punto Con lo stesso Spargimento di sangue No Allora Allora È l'ora No Non ha saltato Ma no Mi ha sfiorato la roccia Ed è morto Non mi ha saltato Adesso gli dico Di risaltare Che laggiù C'è un posto Che voglio Un attimino vedere Le barriere magiche Danneggiano Ciao Arrivederci Tanti saluti Grazie per averci contattato Le faremo sapere Se può morire Oppure no Cosa Dark shade Nuova scoperta Dark shade Cazzo vuol dire Dark no Dark vuol dire Buio Oscurità No Obscure Oscurità Quindi Buio Black e nero Sì 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 Ok Faccio Codesto posto Pocstro Pocstro Poi Faccio finire il No Sono tua amica Cosa ho fatto di male Nella mia vita Minchia Tutto qui Tutto qui No Scrappa Viva Scrappa Viva Scrappa Si inizia Aspettate Oh cazzo Ci sono altri troll Scrappa Vuviosamente Ci sono sicuramente Altri troll Anche perché Non mi ha dato Completato Poi si lascia Un'altra via Il problema è soltanto uno Quanti troll ci sono ancora Da affrontare Dio Oh no No To bastardo Salva Che meglio Adesso ho guadagnato un livello Quindi se ho bisogno di curarmi Improvvisamente Sappiamo il livello Ah no Devo fare Sì anche io lo pensavo Però dopo cambiato idea No scherzo Maremma 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 mia Maremma mia Maremma buona Fuss Rodà Rodà ancora non ce l'ho Ma perché io devo andare Nelle caverne dove ci sono i troll Scusate Perché devo andare proprio a cercare Chi è adesso? E ho detto che sarebbe stato utile Spaccia canale Da una vita che mi volevo prendere Quella schvil Quella schvil Sta morto Oddio Ma quanti cazzo siete? Madonna Madonna Vanno mancato in due Merda Merda Una delle rarissimissime volte Che uso pozioni E mori che te possino Guarda Adesso Umiliazione Ci provo Ragazzi Umiliazione Umiliazione Bene A posto Forse abbiamo ammazzato tutti i troll Non ne sono sicuro Quindi Comunque cazzo che lotta Musica della vittoria Le ho fottute tutti Vai Per sicurezza Darkshade Completato A posto Quindi Adesso scusate un attimo Ok Perfetto Quindi avendo completato questo posto Diciamo che il gameplay Anche questo episodio finisce Caricherò i due episodi su youtube Akpenakpox No entro Questi giorni io li carico Cioè La sera renderizzano E Vediamo un po' Faccio un calco Oggi è giovedì Se io ne renderizzo uno oggi E domani Do carico E domani sera Ne faccio renderizzare un altro Scroppurpuro no aspetta oggi però è venerdì cazzo 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 ne caricherò uno e basta si mi sa che ne riesco a renderizzare due ma ne carico uno axa è probabile e niente vabbè qui ho fatto piazza pulita vai dormi un'oretta facciamoti riposare vabbè sono altre 4 ore non fa male a nessuno a posto perfetto allora ragazzi direi che veramente per questa volta è tutto ci vediamo a dei futuri episodi con sicuramente skyrim e forse Battlefield 3 se non laga tutto dipende da quello ciao ciao ragazzi